Prima cosa non è vero, e poi se vuole si passa ci siamo ancora... E poi proprio per due motivi, uno perché se fosse, non è vero, se fosse vero sarebbe come un compagliaccio che durante le riunioni porta fuori le discussioni nella Lega, anzi un compagliaccio... Domenica ti fa per loro quindi, Domenica ti fa per il Napoli quindi... Io? Beh me lo tengo per me.